Seminare la pace nell'ascoltare. Non si dilettino di udire se non cose oneste, lecite e necessarie. Seminare la pace nel parlare. Tutte le loro parole siano sagge e misurate, non aspre, non crude, ma umane e inducenti a concordia e carità. E in qualunque luogo si trovino, cerchino di mettere pace e concordia.